peppe io sto uscendo va bene va bene va bene va bene non è che quando torno mi fai ritrovare un'altra volta il ketchup sul soffitto quello non era ketchup va bene non voglio sapere che cosa era rivederci peppe ma tu chi sei ciao chi cacchio sei sono sono un bambino e guarda l'ho visto peppe oltre alle nucleari mo ti fotti pure i bambini io non c'entro niente con questo non ho messo in cinta nessuno arrivederci ma cazzo di finestra che non è mai aperta vabbè bambino dov'è la tua mamma io mi chiamo titino ok non me ne frega dove è tua mamma che ti riporto da lei no non ci voglio andare sima non puoi stare fuori la mia porta facciamo un gioco no che signore cattivo sta giornata inizia proprio da dio peppe che rompe la minchia mi sporca casa un bambino a caso fuori la mia porta che cazzo la mia cazzo di macchina che cazzo è successo perché è tutta sfasciata ma dove se becco quello lì che me l'ha distrutta io giuro che gli taglio il collo a chi cari calmati un bambino calma di un bambino calma di un bambino a 30 danno l'ergastolo e ti fanno chiudere pure il canale calmati perché un bambino ok allora adesso giochiamo bambino non ho tempo adesso voglio sapere immediatamente dov'è tua madre che gli devo dire tutto questo non te lo dico così tu non lo dici a mia madre mia mamma non mi picchia ma non ti picchio io volevo dire non posso giocare sono impegnato tu non puoi andare dalle persone fino a fuori che alle loro case a dire vuoi giocare e io voglio giocare e tu non giochi con me perché tu mi hai sfasciato la macchina mica non è mai rimasto ma con la guarnizione del motore io che cazzo ci devo fare con te dai non dire parolacce che sono un bambino ma volevo dire ma 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 vai a fare la torta al cioccolato buona vabbè ciao vaffaculo quindi compra solo questo si compra solo questa roba ok sono 20 euro comunque carinissimo il suo bambino il mio che cosa il suo bambino ma io non ho nessun bambino a quindi il bambino là dietro non è il vostro che vi sta seguendo per tutto il supermercato ma che cazzo mi scusi due secondi abbiate un po di pietà cristiani che stanno in casa perché cacchio mi stai seguendo ma vai da tua mamma no voglio giocare se non mi devi seguire ma dopo io la mela non ti dico manco dove te la faccio mangiare veramente no col cacchio la cena di peppe c'è la cena mia c'è la devo dare a mia zia dai giochiamo facciamo un 2 3 stella ok conto io tu non ti muovere se ti muovi ti do una penitenza 1 2 3 stella ti sei mosso e qual è la penitenza ma che cacchio si lo so mi sono dimenticato di comprare il sugo per la pasta mamma mia ma che giornata bambini peppe la cassiera rincoglionita cosa cavolo ti è successo quel bambino che sta dentro casa mi fa proprio girare la testa mi permetti di passare arrivederci mela ciao no mi sono rotto la minchia mi sono rotto la minchia è finito no ora si perchè hai distrutto il mio amico perchè tu non vuoi giocare allora vogliamo fare una battaglia con le nerf si facciamo una battaglia con le nerf ok vado a prendere la mia tu prendi la tua cosa qua la tua pistolina ti batto che sono fortissimo e pure io sono fortissimo ho giocato a cut of duty forza iniziamo la battaglia si piatti questo ti ho colpito ho vinto io aspetta anche io ti devo colpire ma costretto mi stavo rompendo le scade questo si chiama acchiapparella ma ti acchiappo io se non inizi a correre lo facciamo quindi questo gioco e se mi prende che succede che succede se mi prendi non ti lascio più finchè non muori ah arrivederci vieni qua no 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 vieni qua ti vuoi far male da solo meglio così va no 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 oh ma chi è che fa sto casino durante la mia pausa signore permesso si levi si levi oddio questo ha fatto male pure quello che ti sto per fare io farà male no vieni qua maledetto piccolo ma aia oddio 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 no 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 togli il ponte togli sta roba togli 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 si si vai no maledetto ah ce l'ho fatta a scappare ma da inutile che esulti appena minchia conosco tua mamma gli dico tutto ti faccio minchia ti faccio schiaffeggiare altro il culo e il cervello ti faccio schiaffeggiare tanto non lo saprai mai continuerò a farti scherzetti finchè non giocherai Emi chi è ruttuo cazzo bambina de merda aia che cosa è stato aia cosa è successo niente ti abbiamo lanciato da un tetto e abbiamo detto tutto a tua madre cosa è mamina ma ciao mi hanno detto tutto mamma sono loro i cattivi mi hanno lanciato da un tetto sai che loro in confronto a quello che ti sto per fare io sono gentili perché loro a me non ti hanno lanciato da un tetto io ti sto per lanciare da un aereo ma io non ho fatto niente me la playstation non la vedi finchè non diventi maggiorenne no 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 basta uccidetemi subito perché andiamo a casa micchia ti sto per dare tante di quelle mazzate ma tante di quelle mazzate ma tante di quelle mazzate ti faccio diventare un alieno perché ti deforma il corpo piccola palla di merda vieni con me che mamma quando andiamo a casa micchia dico tutto a tuo padre micchia facciamo proprio johnsina diventa tuo padre vabbè poteva andare molto peggio quel bambino poteva farci degli scherzetti un po' peggiori in realtà ce l'ha fatto uno scherzo un po' peggiore perché mi ha dato una granata giocattolo e quindi io l'ho lasciata sul tavolo di casa nostra è stata una granata giocattolo è stata una granata giocattolo non si trattavi ma è stato un po' peggio è stata una granata giocattolo ma è stato un po' peggio Grazie a tutti.